M. Antonio Fioretto, 11 Sport, otto gol fatti in due partite, la squadra ha finalmente trovato il cinismo che cercava? In queste due gare è stato abbondante, per fortuna siamo riusciti a cambiare un ruolino di marcia che ci vedeva un po' penalizzati da questo punto di vista, anche rispetto al girone d'andata, ovviamente è una questione anche di tempi che vanno rispettati, oltre all'interpretazione e ai calciatori che dettano tali tempi e quindi per oggi posso dire di sì, ma ovviamente è sempre la continuità che fa la differenza. Antonio Carlino, Stabia News, mister oggi prestazione perfetta da parte di tutti, sarebbe facile fare il nome di Marotta, ma il ritorno di Orlando dal primo minuto è stato prezioso, come giudica la sua prova? È Orlando e le sue qualità le conosciamo, le abbiamo apprezzate anche in altre situazioni, è un ragazzo che, non lo dico io, ha delle qualità, ma credo che all'interno di questo gruppo vengano esaltate perché c'è una disponibilità ampia da parte di tutti, perché questo credo che sia abbastanza evidente una forza di gruppo e quindi un plauso da parte mia va a tutta la squadra e non mi riferisco solo a coloro che hanno giocato, che sono subentrati, ma all'intera rosa che la compone perché emerge un dato certo, evidente almeno dal mio punto di vista che è una squadra che oggi sa cosa vuole e dove può arrivare. Francesco Maresca, Sport Report Magazine, complimenti per la schiacciante vittoria a suon di gollo, complimenti per come la USA abbia resistito alle pressioni avversarie dopo il rocambolesco gol subito, però come mai è stato designato Lazzari come vice russo e non Farroni? e cosa ha detto al ragazzo nell'intervallo? Intanto perché Lazzari è stato a più tempo rispetto anche a una scelta dettata da una condizione psicofisica migliore dal nostro punto di vista e anche perché Farroni partiva da un gradino sotto se non due o tre perché aveva superato da poco una situazione fisica non facile che l'ha tenuto fermo un po' di giorni e quindi anche la condizione fisica ha inciso sulla scelta, ma mi sembra che Lazzari abbia fatto il suo. Cosa gli hai detto all'intervallo? Beh ragazzo nell'intervallo assolutamente nulla, quando c'è un errore anche abbastanza evidente puntare il dito credo che non serva dal mio punto di vista, se ne è accorto anche da solo, è stato incoraggiato a continuare perché ha fatto una buona prova all'inizio della gara, gli hanno dato fiducia ai compagni ma se l'è meritata perché altrimenti non avrebbe giocato, poi l'errore tecnico quando succede al portiere ovviamente balza più all'occhio. Domenico Ferraro, Gazzettino Vesuviano, altro poker e tabù menti sfatato per le vespe, cosa l'ha impressionata di più nella partita di oggi della sua squadra anche in ottica futura per il rush finale di torneo? Siamo partiti molto meglio rispetto a Palermo, anche se dopo il 2-0 abbiamo concesso un po' di campo, un po' di spazio in più agli avversari che ovviamente hanno approfittato, perché è vero che Lazzari ha commesso un errore ma è altrettanto vero che abbiamo concesso una punizione che potevamo risparmiarci, la gestione della palla poteva essere migliore con meno superficialità e credo che sono aspetti migliorabili individualmente e anche collettivamente, mi ha impressionato la forza che hanno avuto nel secondo tempo di entrare come se fosse l'inizio della gara con un impeto violento e credo che anche da un punto di vista fisico si sia visto questo aspetto a occhio nudo si sia notato, quindi mi ha fatto molto piacere quest'unione, questa forza del collettivo che secondo me già sta facendo la differenza da un po' di gare a questa parte. Natale Giusti, Vivi Centro, la vittoria di oggi dimostra anche la maturità della sua squadra, concorda sul fatto che le difficoltà del primo tempo in fase difensiva sono state dovute anche al forte vento che ha influito non poco e ha condizionato la gara favorendo anche la prima linea di pressione della Turris? Ovviamente sì, anche per calciare la palla dal fondo per il portiere non era semplice, ma anche per gli stessi calciatori con il vento contrario non era facile quando c'era la necessità di doverla in qualche maniera rinviare o calciare per i giocatori più avanzati e quindi poteva essere un boomerang, però i ragazzi sono stati bravi, hanno sopportato, hanno resistito perché era un derby e in queste partite non c'è nulla di scontato anche se vieni da un risultato così rotondo come è successo a noi contro il Palermo che poteva far pensare che questa fosse una partita facile. non è stato assolutamente così, né nelle premesse e neanche durante la gara perché questa è una squadra che gioca, ti fa giocare male perché viene sempre a cercare la palla in avanti, gioca uomo con uomo e non era facile mantenere il ritmo e soprattutto scardinarli e trovare le giuste traiettorie per provare a fare male. Le abbiamo trovati in più occasioni, potevamo chiuderla anche prima sul 3-0, ci è mancato sempre la zampata finale e poi rischi addirittura. di andare in parità. Ovviamente sono aspetti migliorabili ma oggi credo che è veramente andare a cercare il pelo nel luogo. Era Natale Giusti, invece Mario Vollono, Vivicentro, ti chiede, questa USAB ha dimostrato oggi di saper giocare anche senza play, una vittoria che dà un'indicazione importante per il continuo della stagione. Diciamo che oramai avevamo anche trovato una certa fluidità di manovra con Berardocco che ha delle caratteristiche completamente lontane, diverse da Scacabarozzi, da Vallocchia, mentre è molto più vicino il Bovo o il Sushu e lo stesso Iannoni. Quindi perdere Berardocco nell'economia di un certo tipo di gioco ovviamente ti lascia un po' in difficoltà. Però devo dire che gli altri due oggi, anche chi è subentrato, lo dice il risultato, ma non solo, soprattutto la prestazione, abbiano ampiamente sopperito a questa assenza ma dobbiamo avere anche questa capacità di andare oltre l'assenza di un calciatore. Ultima Giuseppe Amato, il resto del calcio, approfittando della linea difensiva molto alta della Turis, la USAB è riuscita spesso a far male con un gioco forse più diretto del solito nella ricerca di Marotta, quasi da regista offensivo, per poi smistare sui compagni in campo aperto. Quanto ha lavorato su questo aspetto nel preparare la sfida? Era una possibilità, è stata una soluzione preparata, lo sapevamo, ma come credo che lo sapessero anche loro, quando spesso andavano a cercare la giocata in avanti per sano, per poi buttarsi dentro con Giannone e gli altri. Giocando a uomo, questo è un aspetto che si ripeteva spesso, la bravura è nel non subire, nel trovare subito le contromisure a una situazione che era anche abbastanza evidente. Grazie mister. Prego.